Benvenuti cari follower, prima di tutto questa notizia è molto felice e la gente la stava aspettando da più di due mesi, quindi vogliamo che questo video raggiunga più di 3000. Mi piace, dato che siamo l'unico canale, ti trasmette informazioni e notizie in modo corretto e senza mentire. Grazie per il vostro continuo supporto. Se tutti i modelli numerici globali concordano, aria molto fredda entrerà in Italia a partire da domenica 18 agosto 2024 e il modello europeo prevede l'arrivo di un vero e proprio temporale in Italia che potrebbe portare con sé ogni tipo di maltempo, dalle inondazioni alla grandine, venti e rischio che si formino uragani e quindi domenica 18 agosto pioggia forte con un'ondata di freddo e tempo molto brutto sul nord e centro Italia e poi lunedì 19 agosto questa forte ondata di maltempo. Il clima raggiungerà il sud e le isole di Sicilia e Sardegna con il freddo e l'inverno per eccellenza, salutando così l'estate e preparandosi ai forti uragani atlantici. Anche per quanto riguarda la pioggia, cadrà in tutte le regioni da nord a sud, anche sull'isola di Sicilia e in Sardegna. Restate sintonizzati per maggiori dettagli in seguito.